Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia. Per il nostro regionale, tassello dopo tassello, stiamo costruendo l'ecosistema per la mobilità delle persone. L'obiettivo è sviluppare una rete di servizi sempre più capillare di qualità, anello di congiunzione tra i servizi alta velocità intercity e tutti i servizi di primo ed ultimo miglio. Qualità, multimodalità e connettività sono i tre pilastri di oggi e del futuro. Nel 2022 arriviamo ad oltre il 50% della flotta rinnovata con ulteriori 105 treni rock, pop e neonato blues. Continuiamo ad integrare la nostra offerta di servizi con link per porti, aeroporti e mete turistiche per la montagna, terme, borghi e città d'arte. Offriamo tante promozioni per viaggiare con la famiglia e con gli amici e sicuramente tante idee di viaggio con i nostri travel book e le nostre guide turistiche. Due sono le parole chiave di questo nuovo orario, insieme e ovunque.